Ciao, sono Tomas Piaggi e ho 13 anni e vivo la Spezia. Ora sono qui a Genova per perseguire il mio sogno, cioè la danza. Grazie a mio amico ho avuto la possibilità di conoscere Matteo Adino, colui che dirige la NIMA Academy e che mi ha dato anche la possibilità di entrare a far parte dell'Experience Company. Quando salgo sul palco esprimo tutto in me stesso. La danza è tutta la mia vita. Ciao! Grazie a tutti.